Si conclude la ventunesima edizione dei mercatini di Natale di Castione della Presolana. Che bilancio possiamo fare? Allora, il bilancio è super positivo. Ecco, avevamo come obiettivo superare le presenze dello scorso anno e l'abbiamo superato alla grande. Insomma, l'anno scorso abbiamo avuto 120.000 visitatori, quest'anno pensiamo di esserci arrivati ai 150.000 che speravamo. Quindi siamo super contenti. Un grazie ovviamente va fatto a tutti gli organizzatori, a Visit Presolana, che insieme all'amministrazione comunale ha comunque organizzato questa ventunesima edizione, ai tanti espositori che hanno voluto essere presenti ai nostri mercativi, ricordiamo ben 35 casette e ovviamente a tutte le persone che hanno collaborato e lavorato a fianco di Visit Presolana per la realizzazione di tutto questo. Ecco, ovviamente oggi c'è anche un po' di malinconia, siamo arrivati alla chiusura. Insomma, salutandoci, scambiandoci gli auguri per le prossime festività natalizie, un po' di nostalgia l'abbiamo, però ci auguriamo e ci diamo un arrivederci all'anno prossimo. Cosa avete cercato di offrire anche quest'anno con i mercatini, non solo le casette? Non solo le casette, abbiamo comunque rinnovato tutto il villaggio di Babbo Natale, la casa di Babbo Natale e i suoi ambienti sono davvero meravigliosi e ricordiamo che resteranno, per chi non ha potuto visitarli durante questi sei weekend di apertura dei mercatini, anche nel periodo natalizio resteranno aperti per alcuni pomeriggi, quindi colgo l'occasione comunque per invitare a venire a vedere quanto c'è. Idem è tutto il villaggio diffuso di Babbo Natale, quindi con alcune postazioni a cassione, il patinaggio, che anche quello resterà addirittura fino a febbraio, e ovviamente in questi weekend ci sono comunque anche i preseppi in strada ad andare a vedere, il borgo di Rusio, insomma l'offerta è davvero tanta. Per non dimenticare ovviamente i nostri comprensori sciisici, quindi sono aperti entrambi, speriamo che arrivi anche la neve, ma comunque attraverso anche la neve artificiale i nostri operatori riescono a garantire l'apertura di tutte le piste.